Ha cercato di far entrare in Italia, illegalmente, 15 migranti somali stipati su un semicavinato in vetro resina. Marcello della Torre, brindisino di 56 anni, è stato arrestato dagli uomini del Roan, delle guardie di finanza, dopo un inseguimento in mare. L'uomo, noto alle forze dell'ordine a causa dei precedenti per reati diversi, fra i quali il contrabbando, ha avuto però un malore al momento dell'arresto ed è stato trasportato in ospedale. Da lì è stato trasferito in carcere con le accuse di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, rifiuto di obbedienza a unità militare, resistenza e violenza a nave da guerra, nonché in osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. L'imbarcazione era stata notata in mattinata da una vedetta delle fiamme gialle, mentre si avvicinava alla costa salentina, circa 7 mila da Tricase. La presenza di persone ammassate sul semicabinato ha insospettito i finanzieri che hanno intimato l'ALT per cercare di salire a bordo ed effettuare un controllo. Ma della torre, anziché fermarsi, ha accelerato cercando di raggiungere la terraferma per far sbarcare i clandestini. È però stato raggiunto da un altro mezzo militare e quindi bloccato. L'imbarcazione è stata scortata fino al porto di Otranto e lì, posta sotto sequestro. A bordo c'erano 8 uomini e 7 donne di nazionalità sommala, tutti in buone condizioni, che sono stati trasferiti nell'hotspot di Taranto per l'assistenza e l'identificazione. Della torre dovrà spiegare dove si è iniziato il viaggio della speranza di quei migranti e se l'abbia organizzato da solo o con il sostegno di un gruppo criminale salentino o straniero.